12 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, per due di loro si è resa necessaria la respirazione assistita. Si è resa infatti necessaria per due dei 10 pazienti ricoverati al Policlinico di Chieti in malattie infettive. Per altri due le condizioni sono in netto miglioramento e presto sarà effettuato il test di controllo per verificarne la guarigione. Lo ha reso noto l'Asla e Lanciano Vasto Chieti. Salgono a tre dunque pazienti risultati positivi al test del coronavirus, ricoverati nell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale di Vasto. Ai due già ricoverati, che mostrano costanti segni di miglioramento, si è aggiunto un uomo di 67 anni ricoverato l'altra notte con evidenti sintomi e gli esami hanno poi confermato il contagio. Intanto ieri sera sono stati accolti, trasferiti da Brescia, tre pazienti che non sono affetti da coronavirus. Due si trovano in rianimazione a Lanciano ed uno a Vasto. Si tratta di malati che soffrono di altre patologie e che provengono dalla rianimazione degli ospedali lombardi, dove c'è assoluta necessità di liberare posti letto da destinare ai pazienti affetti da covid-19.